Il lavoro sul campo proprio la domenica quando c'è la partita, naturalmente Massiliano Allegri di fronte alle telecamere ha preferito insomma spegnere microfoni e chiudere la telecamera per poter parlare più liberamente con i manager e gli imprenditori che insomma gli pongono le domande in questa lezione all'Allegri Campus. La Juventus è molto interessata, il disegno della Juventus era più l'anno successivo perché probabilmente avrebbe quasi smesso dopo il mondiale Buffon, nel disegno della Juventus c'era questa ipotesi con l'arrivo di Donnarumma a partire proprio da quando era parametro zero a scadenza a partire da giugno 2018. Che cosa succede? Che con queste condizioni la Juve deve andare a trattare con il Milan. Ora il Milan finché si tratta che lui da svincolato approda la Juve ok ma venderlo dopo che non ha trovato l'accordo per il rinnovo chiaramente sarebbe un ulteriore smacco per i tifosi. Quindi un Milan che tiene duro sul fronte nazionale e che non vuole assolutamente trattare con la Juventus. Anche se la Juventus ha quel netto che interessa molto, che è stato ricevuto ieri il suo agente Stefano Castagna da Mirabelli a casa Milan. E allora che cosa succede? Succede che probabilmente saranno più le piste estere. Intanto vediamo netto, poi ci torniamo sull'eventuale sostituto di Donnarumma. Stiamo ancora sul focus del caso Donnarumma perché le piste sono più calde quelle estere. Io credo che Real Madrid alla fine andrà a operare o sulla permanenza di Navas o su De Gea. Il grande sogno di Florentino Perez di riportarlo in Spagna c'è. Allora che cosa può succedere? Che se De Gea va al Madrid può liberarsi un'ipotesi United. Questa è un'altra pista che sta crescendo e che stiamo cercando di verificare perché comunque ha delle intrature molto positive con tutti gli affari che ha piazzato Raiola la scorsa stagione proprio con i Red Devils. Quindi attenzione. Secondo, il Madrid è un po' più tenue perché vuole un portiere più bravo con i piedi, anche un po' più strutturato, anche se è un fenomeno che magari non convince del tutto Perez per il momento. Piaccia Zidane ma non è che abbia folgorato il potentissimo Florentino Perez. Dunque si affievolisce un po' al momento la pista Donnarumma-Real. Abbiamo detto difficoltà per la Juve a trattare con il Milan che per il momento fa muro. Ecco che la pista più percorribile pare essere quella che porta in Francia, a Parigi. Lì avrebbe la Champions League, avrebbe uno stipendio pazzesco da quasi con i bonus 10 milioni. Farebbero follie. Sono pronti a dare anche qualcosa come 40-50 milioni. L'offerta migliore che informalmente sta cercando di essere recapitata al Milan. Dunque tutte le strade portano a Parigi. In questo momento è il club che probabilmente ha più chance di ingaggiare questo giocatore. Anche per un discorso di lasciare l'Italia andare in Francia. Quindi direi che il quadro in questo momento vede favorito il Paris Saint-Germain. In seconda battuta se cambia idea Florentino Perez-Real. La Juventus è vigile ma può creare qualcosa di interessante soltanto se il Milan va forte su Neto. Se il Milan va forte su Neto si deve sedere al tavolo con la Juve. A quel punto inizia la trattativa vera anche per Donnarumma. Al momento però non è Neto il favorito e chiudo il discorso. È Perin. Quindi direi che in questo momento in cima alla lista c'è Perin. C'è un accordo di massima sulla base di 15 milioni col Genoa che in realtà ne vorrebbe qualcuno di più. C'è solo qualche dubbio di natura fisica. Deve dimostrare di essere tornato. E quindi vedremo i prossimi giorni. Questo è un momento è il fixing della situazione. Portiere soprattutto. Portiere. Guardando in casa Juventus ma trovando proprio come legame Donnarumma. Come commentiamo le parole di Marotta e la possibilità anche che si apra uno scenario bianconero per il portiere? Le commentiamo come le parole di uno dei dirigenti più importanti a livello internazionale con una grandissima esperienza. Che ovviamente quando si presenta un'opportunità come Gianluigi Donnarumma non può che pensarci, che fare delle valutazioni. Quindi è normale anche che Marotta abbia detto quelle parole per quanto riguarda Donnarumma. Un portiere così giovane, così bravo, a scadenza di contratto è un'occasione per tutti. Al momento però, al di là di queste parole, di un gradimento naturale per un talento o per altro italiano, possiamo ribadire quello che sappiamo. Ovvero che la Juventus fin qui di offerte per Donnarumma non ne ha fatte, di sondaggi con Raiola non ne ha fatti. L'idea della Juventus per il portiere è di prendere Szczesny. Anche in queste ultime ore diversi club sono andati sul portiere polacco. Anche perché, viste i rumors su Donnarumma, qualcuno ha pensato che la Juventus magari non avesse ancora chiuso quest'operazione. E invece dall'Arsenal la linea è stata chiara. Szczesny andrà alla Juventus. Quindi al momento, a quanto risulta a noi, il portiere bianconero da affiancare a Buffon sarà l'ex Roma, Wojciech Szczesny. È chiaro che il mercato è pronto a tutto, ma al momento, al di là del gradimento, da quanto ci risulta, Donnarumma è praticamente promesso a Real Madrid, che è la squadra che sta insistendo di più per prenderlo. Lo stesso Donnarumma non impazzisce per andare subito alla Juventus, anche per non fare un ulteriore torto magari al Milan. Quindi ad oggi questo discorso è abbastanza fermo, fermo al gradimento di Marotta e non va oltre. Senti, lui ha parlato anche di Keita e anche lì le situazioni potrebbero essere legate proprio allo stesso discorso fatto per Donnarumma. Su che cosa invece ci si può muovere costantemente e concretamente anche? Ci sono diversi movimenti per quanto riguarda il mercato della Juventus. Innanzitutto il nome di Keita che faceva oggi Marotta è un giocatore con la stessa situazione contrattuale di Donnarumma, ovvero scadenza tra un anno e non rinnoverà il contratto con la Lazio. Sappiamo che la Juventus ha l'accordo di massima con il giocatore e con il suo agente Calenda da tempo, ma non ha ancora trovato l'accordo con la Lazio. Quindi anche in questo caso bisogna capire se si trova un'intesa subito o se Keita può rimanere in Roma per un anno e poi firmare a costo zero. Capire poi se Keita può stare in panchina con una punizione come per Donnarumma oppure se giocare da protagonista. Quindi tante valutazioni da fare su questo fronte. E Milan sempre molto interessato a Keita, non lo dimentichiamo. Per quanto riguarda le altre mosse del mercato della Juventus, su tutti sappiamo di due nomi. Douglas Costa è un giocatore che la Juventus apprezza tanto. Oggi Marotta in queste interviste è stato molto chiaro, ha ribadito il gradimento per un giocatore molto forte, ma sta aspettando in realtà un passo dal Bayern Monaco. Perché diciamo così? Perché in realtà questa trattativa al momento tra i due club non è ancora realmente partita. La Juventus ha trovato un accordo col giocatore, ha incontrato l'agente del giocatore che ha aperto un'intesa contrattuale da 6 milioni all'anno. Quindi Douglas Costa è pronto a dire sì alla Juventus. Ma la Juve sta aspettando il Bayern per iniziare una vera e propria trattativa sul prezzo. Perché in realtà serve una scelta che sia di principio, prima ancora che economica, per questo esterno brasiliano. Perché il Bayern Monaco non ha ancora comunicato ufficialmente di volerlo vendere. Sta facendo delle valutazioni di mercato con Ancelotti, con i propri dirigenti. A quel punto, se quando il Bayern Monaco sceglierà di venderlo, la Juventus si siederà a un tavolo e sarà pronta anche evidentemente a provare ad accontentare le richieste. È valutato 50 milioni. Douglas Costa, la Juve fino a 45 con dei bonus arriva, quindi distanza non insormontabile. Possiamo dire che nel caso in cui il Bayern decidesse ufficialmente di venderlo, la Juventus è assolutamente in pole position e pronta ad accontentare le richieste. Per quanto riguarda l'altro ruolo, teniamo il nome di Steven Nzonzi del Siviglia. Ruolo del centrocampista, giocatore di fisicità come Douglas Costa, è molto apprezzato da Allegri. Ha una clausola recissoria da 40 milioni di euro da pagare in un'unica tranche. E la Juventus ha parlato col Siviglia in questi giorni. Ha cercato di chiarire la questione per capire se potesse dilazionare questo pagamento in più anni e non pagare immediatamente i 40 milioni. Il Siviglia ha aperto la porta a quest'idea e quindi da considerare anche questa opportunità. Nzonzi, non l'unica centrocampo, perché tra i vari Emre Can e le altre persone e le altre occasioni, tra cui Matuidi, la Juventus resta assolutamente concentrata su diversi centrocampisti. Gli esempi di possibili uscite invece hanno il nome di Quadrado e Sturaro. Verso quale direzione e con che guadagno da parte della Juve? Sturaro è un giocatore che piace all'Everton e che ha diverse richieste, mentre il discorso di Quadrado oggi è stato anche in questo caso aperto da Marotta, tra virgolette, confermato tra virgolette da Marotta, che ha detto ci sono diversi giocatori in uscita, Lemina, Sturaro, bisogna capire le loro situazioni, e ha fatto anche il nome di Quadrado. Ha detto faccio dei nomi a caso, in realtà a noi risulta che Quadrado sia un giocatore che può lasciare davvero la Juventus in questa finestra di mercato. È stato pagato quasi 30 milioni, qualcosina in meno per il riscatto dal Chelsea, adesso la Juventus ha meno di quella cifra, ovviamente non lo vende. Quindi questo è il prezzo di Juan Quadrado. Bisogna specificare che però c'è già una squadra pronta a fare dei sondaggi ed è il Paris Saint Germain, che sta cercando un esterno offensivo, sta sondando diversi nomi, vagliando diverse opportunità, e tra queste c'è Quadrado, quindi Juventus che aspetta delle prime offerte ufficiali per quanto riguarda Quadrado. Tante voci in Inghilterra sull'Arsenal, ma non ci risulta che sia una pista così calda. È chiaro, se dovesse partire Quadrado, la Juventus, oltre a Douglas Costa, può prendere evidentemente un altro esterno. Non dimentichiamo che è già arrivato Schick, ma si può pensare anche a Federico Bernardeschi. Grazie a tutti.